La Regione Puglia sta lavorando ad una misura innovativa del reddito di dignità. Dal 2016 sono state ammesse a beneficio oltre 32.000 domande per una spesa di circa 60 milioni di euro. La nuova misura, che cambia in base alle esigenze dei cittadini, nasce dalla collaborazione tra l'assessorata al welfare e quello al lavoro per un nuovo RED assolutamente innovativo che si andrà ad integrare con le ultime misure nazionali. I tavoli tecnici, con tutti i lettori interessati, dice l'assessore regionale al welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, sono in una fase avanzata e nei prossimi mesi si potrebbe già presentare la nuova misura. Questo sarà, per noi, dice Barone, un motivo di orgoglio perché vogliamo andare incontro a chi ha perso il reddito di cittadinanza ed è fuori dall'assegno di inclusione persone fragili a cui dobbiamo dare delle risposte. Una dichiarazione che giunge in audizione in Commissione Sanità e Sociale, nella quale sono stati illustrati i dati sul RED e sono stati annunciati appunto le nuove misure. Il RED prevede un'indennità economica mensile di 500 euro a fronte della sottoscrizione del patto di inclusione allo svolgimento delle prestazioni da questo previste. Dal 2016 ad oggi, continua Barone, sono state ammesse dunque più di 32.000 domande per una spesa di almeno 60 milioni di euro. Sono stati sottoscritti 24.600 patti di inclusione a cui se ne devono aggiungere altri della finestra in corso. Per quello che riguarda le manifestazioni di interesse da parte delle imprese, enti pubblici, aziende del terzo settore, per attivare i percorsi di inclusione per i beneficiari, sono stati presentate oltre 1.900 manifestazioni per un totale di oltre 4.000 progetti presentati e più di 12.000 posti richiesti. I tirocini attivati sono circa 19.000. Siamo orgogliosi, dice Rosa Barone, di aver attivato sperimentazioni in favore di un target specifico della popolazione. Abbiamo stanziato anche 500.000 euro per l'autonomia delle donne vittime di violenza che si rivolgono ai CAV e denunciano alle autorità competenti. Stiamo lavorando per una regione che sia davvero inclusiva, dove nessuno venga lasciato indietro.